Sul programma 7 giorni di Rete 4. Secondo Mediaset Infinity, le notizie più importanti della settimana. Politica, attualità internazionale, economia e inchieste scottanti. Con Elena Tambini, da sabato 22 aprile in prima serata su Rete 4. Non si sa se RTL 102 5 ed RTL 102 5 TV trasmetterà i video di Gigi D'Agostino con la Mour Toujour, di Riddle, La Passion, Another Way, bla bla bla, di Temperer con Maya con Feel It, di E.V., a T.C. con All Around the World e tutti gli hit dei anni 90. Vedremo che cosa succede. Ciao a tutti e alla prossima.